La straordinaria cornice di Villa Vottini ha ospitato in questo fine settimana la manifestazione dedicata alla nostra città dal titolo Lucca, Cavalleria, Cavalli a Vapore e Rampanti. La manifestazione, promossa dalla società Toscana Caccia alla Volpe, ha visto la partecipazione di varie associazioni e un convegno per parlare del mondo equino, con la partecipazione di Giorgio Caponetti, Bruno Giannoni, Giacomo Ricci e del famoso maniscalco Stefano Falaschi. A rendere la manifestazione più suggestiva ed interessante la presenza di alcune carrozze d'epoca e a proposito di motori anche due straordinarie auto centenarie davvero speciali, scortate da alcune moto e che ci hanno riportato ai primi decenni del Novecento per rivivere momenti storici. A causa della lettura di un libro che è di Giorgio Caponetti, quando l'automobile uccise la cavalleria, a seguito di questa lettura è venuto fuori con le relazioni che ci sono a Lucca, delle eccellenze che ci sono a Lucca, che sono state il reggimento Cavalli e Geri Lucca che era il sedicesimo, che poi è stato disciolto, cioè è stato consegnato standard al reggimento Guide, poi Barsanti e Matteucci in quanto inventori del motore a scoppio, e quindi la parte successiva, e poi diversi cavalli Geri, i primi piloti dell'aeronautica, sono stati i cavalli Geri, che erano un po' gli spericolati, un po' gli azzardosi, e si erano buttati su questo nuovo mezzo. La manifestazione è stata inoltre arricchita anche dai componenti dell'Associazione della Linea Gotica Lucchese, in questo caso con divise della Prima Guerra Mondiale e una bella mostra fotografica dedicata all'aviazione italiana. Grazie.